Il Tar del Piemonte ha dato ragione al Comune di Candelo. La vicenda era già stata discussa ad agosto in Consiglio Comunale, quando il gruppo di minoranza Candelo Città Possibile aveva chiesto che cosa il Comune intendesse fare degli spazi acquistati. I privati avevano fatto ricorso al Tar. La sentenza è stata depositata il 24 gennaio ed indica come i ricorsi siano stati respinti, in quanto le motivazioni dei ricorrenti erano non condivisibili o privi di fondamento. L'amministrazione è sempre stata convinta della bontà della sua azione, per questo si era deciso con forza di resistere in giudizio e di difendere i diritti dell'ente e della comunità. Questa sentenza ribadisce l'azione corretta di un ente in nome della comunità, difendendo e valorizzando il patrimonio culturale. Così ha sottolineato l'amministrazione. Ed ancora il Comune non intende far uso del diritto di prelazione in modo né continuativo né indiscriminato. Per più di vent'anni, infatti, non era stato fatto. In questo caso specifico si trattava però di tutelare i beni pubblici. Tutto questo è nato a causa dell'acquisto di due cantine del ricetto, dove il Comune ha esercitato il diritto di prelazione. La compravendita era già stata definita tra pervati, ma l'ente, avendo in serbo il progetto di valorizzazione di sviluppo culturale e turistico, ha deciso di fare questo investimento acquistando le due cantine attigue al prezzo stabilito di 24.000 euro, facendo valere il proprio diritto di prelazione.